che abbiamo controllato, anche se con Cremona credo che sia importante avere continuità e attenzione per tutti i 40 minuti perché essendo una squadra di talento, come ha mostrato, vive di grandi momenti offensivi e il non far risaltare credo che sia un elemento importante che stasera qualche volta non ci abbiamo messo molta attenzione. Dall'altra parte credo che invece in attacco abbiamo prodotto tanto e rispetto a quanto abbiamo costruito per tiri aperti a situazioni credo che abbiamo concretizzato o preso non abbastanza rispetto a quello che abbiamo fatto vedere. Sono contento perché sono riuscito a far giocare Bramos un po' più di minuti, che era la cosa che mi interessava per farli ritrovare un po' di ritmo e soprattutto un dato che mi fa contento sono al di là dei 21 assist anche i 46 punti della panchina rispetto ai 41 del quintetto quindi ancora una volta credo che il nostro essere un gruppo sia un elemento importante. È soltanto 1-0, la serie è ancora molto lunga, l'obiettivo naturalmente è recuperare e prepararsi sistemando un po' di cose tra attacco e difesa per martedì perché si rinizia un'altra volta.